Con il piano strategico 2022-2024, Enel anticipa di 10 anni l'impegno per zero emissioni, dal 2050 al 2040, sia per le dirette che le indirette e senza ricorrere ad alcuna misura di offsetting, come rimozione della CO2 o piantumazione di alberi. Emissioni che non avranno luogo, quindi. Enel inoltre uscirà a livello globale dalla generazione a carbone entro il 2027, resta il 2025 in Italia e da quella a gas entro il 2040, sostituendo il termoelettrico con nuova capacità rinnovabile e l'ibridazione delle rinnovabili con soluzioni di accumulo. Un piano che con 170 miliardi di euro di investimenti diretti entro il 2030, oltre i 70 miliardi riservati alle energie pulite, rappresenta un punto di svolta che ci consente di avanzare dal precedente decennio della scoperta dell'energia rinnovabile all'attuale decennio dell'elettrificazione, dice Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel. La capacità installata rinnovabile passerà dagli attuali 45 gigawatt ai 129 gigawatt del 2030, senza contare quella gestita. Le rinnovabili non sono più qualcosa di nuovo, sono la base della generazione, sono un fatto. Quello che è nuovo è l'elettrificazione e a questo vogliamo puntare con la nostra azione strategica, dice Starace, consolidando il nostro ruolo come grande supermajor delle rinnovabili. Porte chiuse al nucleare, le nuove tecnologie a fissione sono costose, complicate e resteranno immature per 10 anni minimo, quindi non ha senso parlarne ora, conclude il manager. Plenitude, questo è il nome della nuova società di Eni che punta a valorizzare le attività retail, gas and power e rinnovabili del cane a sei zampe. Plenitude dichiara l'impegno a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040, fornendo il 100% di energia decarbonizzata a tutti i clienti. Si tratta di un caposaldo della nostra strategia di decarbonizzazione e un passaggio fondamentale della trasformazione in atto di Eni, dice la di Claudio Descalzi. Plenitude combina la produzione di energia rinnovabile con la vendita di soluzioni energetiche e una rete capillare di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche, un passaggio che si inquadra nel nostro più ampio impegno volto a creare valore attraverso la transizione energetica, spiega il manager. Plenitude si pone un obiettivo di oltre 6 gigawatt di capacità installata rinnovabile entro il 2025, con progetti ben identificati per raggiungere oltre 15 gigawatt di capacità installata entro il 2030. La società verrà quotata nel 2022, ma con la volatilità che c'è bisogna anche vedere le finestre giuste, spiega Descalzi, precisando che comunque Eni manterrà una quota di maggioranza intorno al 20-30%, tra gli obiettivi strategici quello di arrivare a 11,5 milioni di clienti entro il 2025 e a oltre 15 milioni entro il 2030. Arriva la prima rete italiana ed europea dedicata all'idrogeno verde e la realizzerà Snamma. Nella visione al 2030, presentata insieme al piano 2021-2025, tra i 23 miliardi di euro di investimenti al 2030 per transizione energetica e gas verdi, la società prevede la riconversione di 2.700 chilometri della rete di gasdotti da Mazzara del Ballo a Passo Gries e Tervisio per il trasporto di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili dall'Italia verso le aree del nord Europa, a maggiore domanda. Annunciamo la creazione per la prima volta in Italia e in Europa di una vera dorsale per l'idrogeno, dice la D Marco Alverà. I lavori avranno inizio nel 2025 e termineranno nel 2030 per trasportare l'idrogeno prodotto nel sud Italia o nel nord Africa verso l'Europa, spiega il manager, un impegno molto richiesto dall'Europa con il quale l'Italia diventa hub dell'idrogeno. L'ipotesi di produrre idrogeno verde in Nord Africa è di gran lunga quella che costa meno, segnala la D e rientra nei piani annunciati dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, all'European Hydrogen Week. Quella europea è la nostra strategia e vi siamo più che ben inseriti, commenta Alverà. In generale punteremo sempre più sullo stoccaggio e aumenteremo i nostri investimenti nei gas verdi, riassume il manager, e ridurremo le emissioni legate alle nostre attività, raggiungendo l'obiettivo aziendale del net zero al 2040, con quelle di metano che saranno tagliate del 55% al 2025, il 10% in più dell'obiettivo ONU. Sono tra i felini più affascinanti e iconici, ma l'uomo li ha sterminati e oggi la popolazione del giaguaro è ridotta ad appena 160.000 individui circa. Il WWF lancia l'allarme, negli ultimi decenni la foresta amazzonica è stata depredata, deforestazione per circa l'80% illegale, costruzione di nuove e moderne infrastrutture e non ultimi i devastanti incendi che non lasciano scampo agli animali selvatici. Sono i fattori che mettono a rischio il polmone verde del pianeta e la sopravvivenza dei giaguari, il cui areale si è ridotto di più oltre il 50%. A minacciare lo straordinario felino presente in 18 paesi dell'America centrale e meridionale è ancora oggi la persecuzione diretta da parte dell'uomo. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso è stata compiuta una vera strage con migliaia di animali uccisi ogni anno, soprattutto per il commercio di loro parti del corpo utilizzate nella medicina tradizionale. Come se non bastasse, ancora oggi il bracconaggio rappresenta una drammatica criticità per il giaguaro, ricercato sul mercato nero anche per sostituire specie divenute più rare come la tigre. L'azione principale proposta dal WWF è la creazione di un network di aree prioritarie per la conservazione della specie, connesse tra loro da corridoi ecologici funzionali a garantire il necessario collegamento tra le singole popolazioni puntando a una convivenza pacifica anche grazie a campagne di educazione e informazione.